Nessun allarmismo ma massima raccomandazione ai sindaci dei centri della provincia di Chieti di evitare assembramenti anche nei luoghi all'aperto. Così il prefetto di Chieti Armando Forgione questa mattina al termine dell'incontro avuto con il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, che ha raccomandato di far vaccinare i ragazzi delle scuole ad agosto. Vorrei dare subito una sicurezza. Di zona già si sta parlando ma non c'è nessuna decisione. Nella provincia di Chieti, nonostante noi siamo sempre un po' addosso a tutti i sindaci perché vogliamo che facciano sempre di più di quello che già tantissimo stanno già facendo, in realtà le cose non stanno andando male. Ci sono alcune zone della provincia che sono un po' con alcune fasce di età che preoccupano per la percentuale vaccinale. Abbiamo messo in sicurezza, lo dico con estrema franchezza, le fasce che vanno dai 60 anni in su e quindi qui su queste diverse fasce siamo un po' più tranquilli. Ma in realtà siamo un po' addosso ai sindaci per le fasce un po' più giovani perché proprio queste cose sono quelle che si stanno manifestando in questi giorni, poi sarà più preciso di me il direttore generale, sono quelle che più preoccupano per i contagi. Noi sappiamo bene che ci sono delle regole poste già prima dell'inizio della pandemia che sono regole che vanno rispettate, ancor più in questo momento. Quindi le prescrizioni del distanziamento dove possibile e dell'utilizzo della mascherina vanno rispettate. Le vaccinazioni stanno procedendo bene. Ieri abbiamo vaccinato 5.000 persone che diciamo è un buon tasso vaccinale. Stiamo anticipando dove possibile seconde dosi perché come tutti ormai hanno appreso la variante Delta uno immunizzato solo con la seconda dose e questo chiaramente è anche una preoccupazione specialmente per i giovani. Partendo dalla scuola noi raccomandiamo di vaccinare all'inizio di agosto i ragazzi perché solo così quando comincia la scuola avranno fatto la seconda dose. Chiaramente anche per gli altri giovani 20-30 anni la raccomandazione è vaccinarsi adesso.